Dal Vangelo secondo Marco Andate in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto i vostri piedi, a testimonianza per loro. I partiti predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Coraggio! Oggi si torna a casa. Arrivano gli ambasciatori del paradiso perduto, gli apostoli che Gesù invia per riscattarci dall'esilio. Sono gli angeli che aspettavamo da tanto, perché non ce la facciamo più in mezzo a questa situazione. Siamo sfiniti e affamati di pace e felicità, proprio come il figlio prodigo. Stai dubitando dell'amore di Dio, vero? Non hai argomenti da opporre all'evidenza del male. Questa ingiustizia non la puoi mandar giù e ti opponi ad essa con un altro male, come accade in questi giorni sotto gli occhi di tutti. Quel collega ti ha chiuso in una gabbia di calumni e bruciando la tua reputazione davanti a tutti. Eccoti pronto a uccidere la sua, senza pietà. Non c'è niente da fare. Lontani dal cielo e da Dio c'è solo il peccato. È tutto odora di morte. Ma coraggio! Gli apostoli ci portano oggi l'annuncio che spalanca la pietra del sepolcro dove è imprigionata la nostra vita. Gesù non è qui, è risorto. E con noi possiamo uscire anche noi dal peccato. Non aver paura. Al di là della soglia c'è il paradiso. La gioia e la pace di chi ama e perdona perché si sente a casa e non ha più nulla da temere. Guarda bene gli apostoli. In loro, che erano dei poveracci come te, risplendono le primizie del paradiso. Per questo Gesù li manda a due a due, uniti come Adamo ed Eva, prima della disobbedienza che li ha messi l'uno contro l'altro. Per annunciare che Gesù ha vinto il peccato che separa il marito dalla moglie, i genitori dai figli, l'uomo dall'uomo. Due apostoli diversi, l'uno dall'altro, forse umanamente incompatibili e senza interessi comuni, ma che passo dopo passo imparano ad amarsi in Cristo, testimoniando che non è bene che l'uomo sia solo. Rimanda senza nulla, con una sola tunica, che è l'immagine e la somiglianza con il creatore che li riveste. Altro che maschere da cambiare per farsi accettare nelle diverse circostanze, gli apostoli sono trasparenti e senza ipocrisia, perché il Vangelo li rende innocenti come Adamo ed Eva prima di tagliare con Dio. Li manda liberi, senza né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, come Adamo ed Eva prima di mangiare il frutto della disobbedienza, fino a diventare avari, pieni di concupiscenza, abbandonati dall'amore del Padre che ogni giorno provvede ai Suoi attraverso il cibo della Sua volontà. Li manda con il potere sugli spiriti immondi, come aveva fatto con Adamo ed Eva, i quali aveva dato il potere di camminare anche sui serpenti. Accogliamo dunque la Chiesa, che ci viene a chiamare per mezzo dei Suoi apostoli. Possiamo specchiarci in loro, eh? Perché sono l'immagine del cittadino celeste che Dio vuol plasmare in ciascuno di noi. Certo, siamo liberi e possiamo rifiutare l'annuncio, ma allora ci accadrà di restare ancora lontano da casa, come polvere da scuotere da sotto i sandali, così infatti facevano i giudei rientrando da un viaggio in territorio pagano, per significare di non avere niente a che fare con il mondo impuro dei gentili. Ma no, ascolta la predicazione che scaccia i demoni dal cuore. Offri la tua schiavitù e i tuoi peccati al potere di Cristo, che è affidato alla Chiesa. Confessa al Signore il male che hai nel cuore, sarai sanato dall'olio del suo spirito, soffio di vita eterna che farà nascere in te un'attitudine nuova verso la storia e le persone, la stessa vita degli apostoli inviata a tutti. Buona giornata.